Cosa si mangia nella trattoria moderna di pesce 5 stelle più consigliata di tutta la Puglia? Il nostro crudo, il nostro pescato fresco di tutti i giorni E tanto altro ancora, quindi scopriamolo insieme Per esistere sto provando uno dei ristoranti di pesce più consigliati di sempre, ma sarà veramente buono Non perdiamoci il chiacchiere che la fame è tanta e iniziamo subito con Ecco signore, per iniziare la nostra conchiglia di mare Ma, credo ci sia un problema, ma quanto pesce mi hai portato? È così buono che se la mangerà tutta Ma è gigante, cioè potete fare palestra ovviamente con tutto sto pesce, un po' di vino bianco è obbligatorio Io so l'assaggio per assoprare la qualità, quella vera, procediamo con un chili di gamberi Ma perché i gamberi? Mi sa che c'è stato un errore, io già ce li ho qui i gamberi No, quelli sono i nostri locali, questi invece sono di Mazzara del Vallo Non ci credo, è impossibile Tutto vero, spoiler, siamo solo all'inizio Ma scusa, queste sono le bombette? Sì, però di pesce spada Questi invece sono i famosissimi arancini siciliani Però sono di baccalala pizzaiola Ah, già sono con l'antipasto, sono in paradiso, nel paradiso del pesce Procediamo senza freni con Ecco, signore, il primo primo Il primo primo, ma perché? Quanti ce ne stanno? Quanti ce ne stanno?